Direzione e mi... Una volta che stanno facendo il castello picco, eh, sono qua in staff, un cambio di direzione, io proprio non usciamo da tuo lato, e sto solo alla terza volta, quindi bianchi, eh, proviamo, mettiamo il giro, si, vai, grazie, grazie! Eh, eh, buona, eh! Vai! Bianchi, dai, 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 perdono, z, 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 onu, z, zuv, z, e cambio allie, buona, buona, lungo! Bene!